All'imbarcadero del Noncello è stata presentata l'ennesima edizione della Voga Noncello, l'escursione sul fiume in canoa da Pordenone a Prata. Domenica 5 ottobre, infatti, un centinaio di canoisti scenderanno le acque del Noncello per esplorare un tratto del percorso fluviale da una visuale diversa. Percorreranno circa 12 km per due ore di navigazione e una volta giunti a destinazione saranno ospiti del comune della bassa pordenonese che offrirà loro un momento conviviale. Soddisfazione nelle parole dell'assessore comunale all'ambiente Nicola Conficoni. A pochi mesi dallo svolgimento delle lezioni gratuite di canoa organizzate quest'estate grazie alla collaborazione del campione olimpico Daniele Molmenti ci ritroviamo alla Tracco Marcolini in centro a Pordenone per promuovere l'organizzazione di un'altra manifestazione, in questo caso promossa da Legambiente. Si tratta della Voga Noncello la cui prima edizione si è tenuta nel 2002, una manifestazione che concorre assieme a tutte le altre che hanno caratterizzato questo mese di settembre alla valorizzazione del fiume Noncello che è un obiettivo condiviso dall'amministrazione comunale. Noncello una risorsa importante per la nostra comunità, non deve essere vissuto solo come una minaccia ma anche come l'opportunità di vivere le suggestioni offerte da un'osi naturalistica davvero unica e straordinaria. L'invito a tutti è quello di venire domenica mattina qui portandosi la canoa e il giubbino e di incrementare il numero dei partecipanti in modo tale da approfittare di questa importante occasione che Legambiente mette a disposizione anche con la collaborazione del comune.